Sono molto triste di non poter essere con voi a Sofia, questa città dove non sono mai stato, che non ho mai conosciuto e che so essere piena di mistero e di bellezza. Quello che volevo dirvi, oltre che benvenuti alla retrospettiva che Cinemania fa dei miei film, è che di fronte a una retrospettiva ci si trova a volte con un senso di spiazzamento, perché si vedono film fatti in un certo anno, poi film fatti negli anni che seguono e poi nei decenni che seguono. In pochi giorni si ha un pochino il quadro di tutto quello che è stato il percorso di un regista, spero che la troviate interessante e che in qualche modo vi faccia un po' sognare. Buona visione questa sera.